Servizi di pulizia GLG, i professionisti del pulito. Asaro Maurizio. La nostra ditta altamente specializzata esegue lavori di pulizia per condomini, uffici, giardinaggio, appalti pubblici e privati. Si effettuano sanificazione e igienizzazione ambienti. Per un preventivo gratuito telefona ai numeri 347 48 75 888 o al 329 31 38 921 e per te un gradito omaggio. Affidati a chi ha esperienza nel settore. GLG professionisti del pulito, per avere una vita più splendente.